euro atria in questo video vi presenta l'imbracatura irudec modello light plus 4 le imbracature anti caduta sono dispositivi di protezione individuale fondamentali contro le cadute dall'alto e sono secondo la norma en 361 2002 le imbracature irudec sono conformi alle normative ue 2016 425 sui dpi l'imbracatura light plus 4 è una imbracatura due colori con un punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione più un punto di ancoraggio sternale più cintura di posizionamento con due anelli laterali e anelli di porta strumenti regolabile sulle cosce cintura pettorale più cintura pelvica le cinture sono imbottite e hanno due anelli di ancoraggio lati che vengono utilizzati come punti di ancoraggio per posizionamento lavorativo si regolano in modo che la cinghia possa scorrere liberamente sullo schienale imbottito facilitando l'adattamento alla dimensione dell'utente le cinture sono munite anche di anelli di nastro per apprendere attrezzi anelli metallici per apprendere una borsa degli attrezzi il comodo supporto per la schiena fornisce un eccellente sostegno ergonomico adesso vi mostriamo i passaggi per attaccare l'imbracatura il primo passaggio attaccare l'imbracatura all'anello di ancoraggio dorsale il secondo passaggio passare le braccia attraverso gli spalaci e chiudere la fibia in plastica sulla fascia toracica il terzo passaggio passare le cinghie delle cosce una alla volta in avanti chiudere le fibie delle cinghie delle cosce una alla volta il quinto passaggio stringere i nastri tirando le estremità come punto di ancoraggio a un sistema di arresto caduta settimo passaggio posizionare la cintura attorno l'anca con il supporto imbottito sulla schiena e anelli di ancoraggio d su ogni lato tirare un'estremità dal nastro finché non si trova adattarsi al corpo senza ostacolare la libera circolazione e chiudere le fibie l'ottavo passaggio posizionare la cintura attorno l'anca con il supporto per la schiena imbottito e anelli d'ancoraggio ad nella parte ventrale tirare un'estremità del nastro finché si conforma al corpo senza ostacolare la libera circolazione prima del primo utilizzo l'utente deve eseguire a prova di sospensione in un luogo sicuro per accertarsene che l'imbracatura sia della taglia corretta che la misura sia sufficiente e che fornisce un livello di comfort accettabile per le condizioni d'uso previste l'imbracatura è realizzata in fettuccia di poliestere da 44 mm per maggiori informazioni su questo prodotto cliccate il link in descrizione grazie per aver visionato il nostro video per rimanere aggiornati sui nostri articoli iscrivetevi al nostro canale youtube e la nostra pagina facebook